Veramente ben organizzato e in questa circostanza abbiamo Russia, Stati Uniti e Italia, mentre qui alla trave ancora la Russia, che non ci sono tre big come Elisabetta Preziosa, Vanessa Ferrari impegnata nella Coppa del Mondo a Parigi e poi Serena Licchetta a cui rinnoviamo il nostro in bocca al lupo, è stata operata recentemente ma tornerà presto in pedana, grave sbilanciamento e conseguente caduta da non era possibile evitare. Un salto dietro con mezzo giro è veramente molto difficile ma lei l'ha fatto con le spalle un po' fuori la linea della trave, quindi dal momento del contatto si va in caduta, anche qui uno sbilanciamento, questa pirouette, la ribaltata senza posa delle mani, diretto clic smezzato, salto dietro smezzato. La ruota senza posa delle mani con la gamba elevata oltre l'orizzontale. Il salto costale, due grandi divaricate, il salto costale, parte finale, rincorsa per la rondata e il triplo avvitamento di finale.